La domanda è semplice, decidi di restare o di abbandonare il gioco? Qual è la tua decisione? Io decido di restare, Ila. Abbiamo fatto finora e molare non mi sembra giusto, quindi decido di restare in gioco. Brava Stefania, torna pure dagli altri. Grazie a tutti per il televoto d'oggi. Grazie a tutti.